ciao ragazzi eccomi qua sono tornato allora oggi è mercoledì ed è un nuovo video vi vi ho promesso che vi portare un effetto quindi andiamo a vedere questo effetto se volete tutorial arriviamo a 5 like boom iniziamo eccoci qua ragazzi a questo bellissimo effetto allora per fare questo effetto ci vuole ci serve un mazzo di carte tutto diverso ok e dico lo spettatore di dire un numero da 1 a 5 quello che vuole mettiamo a caso che lo spettatore ci dica il 3 taglio il mazzo tre volte 1 2 3 e ora andiamo a scegliere due carte questa e questa e dei giochi di cuori e 3 picche che le vado a mettere così in mezzo al mazzo e poi chiudo adesso andrò a dire allo spettatore che faccio due mazzetti così così con tutto il mazzo fino a finire le carte ok è un po noioso però ok perfetto eccoci dopo aver fatto questo diciamo lo spettatore di girare un mazzetto di girare l'altro e vedrete che nel mazzetto con le carte nere c'è una e solamente una carta rossa ovvero quella che ha scelto lo spettatore numero 2 e nel mazzetto con le carte rosse c'è una carta una è soltanto carta nera ed è quella che ha scelto lo spettatore numero 1